Un weekend all'insegna del territorio, della gastronomia e della cultura regionale. Castellaneta Marina è la protagonista delle giornate dedicate alle proloco locali. Dopo l'ultimo biennio di pandemia il settore rinasce. Notevole la partecipazione del pubblico anche a suon di degustazioni e prodotti tipici. Noi promuoviamo la nostra regione per far sì che la regione sia più appetiva. Oggigiorno il mare, dicevamo stamattina, non basta più e noi ci proponiamo, o perlomeno siamo i promotori, di far conoscere anche le località dell'Eletto Terra. E' un'azione importante, è un ruolo importante che ci siamo presi e quindi per quanto tale ci possiamo ritenere soddisfatti di quello che facciamo. Perché? Perché noi facciamo ben conoscere le peculiarità di ogni singolo territorio, di ogni singola località. Ad essere rappresentate negli stand di Piazza Kennedy ben 12 delegazioni che rappresentano ogni angolo di regione. Dal Salento alla provincia di Taranto, passando per Valeditri, a Terra di Bari, Gargano e Monti Dauni. Il tutto arricchito inoltre dall'esibizione in concerto di artisti che hanno aglietato il trascorrere del tempo. Puntare ancora di più sulle associazioni, in collaborazione con le istituzioni e ancora di più soprattutto sui giovani, perché grazie a noi giovani si possono programmare, si possono fare programmazioni a lungo termine.